Ciao amici, eccoci qui in southwest Australia, sud ovest dell'Australia, siamo a Perth, siamo a Scarborough, che è una cittadina a ridosso di Perth, conosciuta molto per le sue onde adatte ai surfisti e le sue spiagge estesissime. Infatti, sono proprio qui sulla spiaggia, come vedete dietro di me c'è l'oceano indiano, abbastanza mosso devo dire. Infatti, oggi ho adottato questa capegliatura non molto estetica, ma funzionale perché c'è questo vento che si sente e mi scompiglia tutti i capelli. Come vedete la sabbia è quasi accecante, il mare ha delle gradazioni incredibili di azzurro, guardate che colori spettacolari. Non ci sono molti surfisti, probabilmente perché le onde non sono poi così alte come possono arrivare qui a Scarborough. Ma la spiaggia, volevo soffermarmi sulla spiaggia, qui è estesissima. Pensate che io continuo a vedere davanti a me l'estensione finita. Si vede il prossimo centro abitato che deve essere Hillary's, a distante da più credo di 10, una decina di chilometri. E la spiaggia si estende da qui continuamente, quasi deserta. Direi che proprio qui ci si può godere la spiaggia. Questo è poco ma è sicuro. Qui nel sud ovest dell'Australia, a Perth, le spiagge sono estese e quasi deserte. Vi saluto da Scarborough e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!